Reale ma sobrio, il funerale di Filippo di Edimburgo viene celebrato in forma ridotta nel rispetto delle misure anti-Covid e delle volontà del principe. Alla vigilia delle esequie, le forze di polizia hanno pattugliato l'accesso al castello di Windsor. Le emittenti di tutto il mondo hanno preso posizione fuori dalla storica residenza a ovest di Londra per la cerimonia funebre di più alto profilo da quella della madre della regina nel 2002. Penso che sia molto triste. Sapete, c'è una cosa che la Gran Bretagna fa davvero bene ed è dare sfarzo a una cerimonia e penso che sarà molto triste che non vedremo tutto questo. D'altra parte ritengo sia bello che tutto sarà molto più personale per la famiglia. Sono 30 le persone ammesse alla cerimonia. La famiglia si stringe attorno alla regina. Il principe Edoardo, conte di Wessex, il figlio più giovane del duca di Edimburgo, è stato raggiunto da sua moglie Sofì e dalla loro figlia Lady Louise Windsor. La cerimonia, celebrata dall'arcivescovo di Canterbury, si tiene nella cappella di San Giorgio.